Qua la gente c'è le pezze al culo, non mangia, i massaggiatori non sono più capaci di fare i massaggi, i medi non danno più le mele, i negozianti non danno più i scontrini, come facciamo qua allora? Le soluzioni, il problema c'è o ci sono le soluzioni? Non è che ci raccolti di questo Marco Boyle, lui non c'è soldi, c'ha lavorato, è una scelta estrema, e tu ci consigli di vivere dentro gli alveali chiamati città, giusto? Possiamo vivere dentro gli alveali chiamati città, ma in maniera più di tutta, di adesso. Allora, buonasera a tutti, io sono San Antonio Damburro e ho scritto questo libro, Non è in crisi e truffa, edizioni sì, ringrazio Fabrizio e Max che sono i miei editori, ormai vedo più loro che la mia ragazza. E niente, questo libro in realtà è stato scritto un po' anche per gioco, cioè in realtà volevo rendere noto tutte le cosiddette bufale che fanno passare per verità sacrosante per quanto riguarda il mondo della finanza e delle banche. E ho scritto in pratica una disamina su alcuni argomenti come il prodotto interno lordo, come i derivati, come il funzionamento della borsa, per finire poi a una descrizione del sistema economico in cui viviamo e offrire alla fine di questo libro le soluzioni ai problemi che fanno parte di questo sistema economico. in sostanza ho fatto una descrizione nella prima parte sul PIL, il prodotto interno lordo. Il PIL come voi sapete è un indice che dovrebbe misurare la ricchezza di un paese. Io vi dico che questo indice è sbagliato in quanto non è in grado di esaminare fino in fondo la ricchezza di un paese. Perché? Perché non prende in considerazione alcune varianti. Vi faccio un esempio molto banale. Se io vado in un bar, bevo delle bottiglie di vino, faccio aumentare il PIL perché faccio circolare moneta. Se poi mi metto alla guida e investo due o tre persone, queste persone hanno bisogno di cure, faccio aumentare il PIL perché hanno bisogno di cure mediche. Naturalmente però ha creato un dolore, un male alla società. La stessa cosa si può trasportare in ambito macroeconomico, per esempio con le società. Se una società affa produce e vende e beni alla collettività, benissimo, fa aumentare il PIL. Ma se la stessa società va a inquinare il fiume di fianco e quindi ci saranno necessarie apportare dei costi di bonifica di quel fiume, quei costi non sono contemplati nel PIL. Ma il PIL va a sottolineare solo la ricchezza che crea quell'impresa. Quindi come potete vedere è un indice che non è in grado di esaminare tutta la ricchezza di un paese perché non tiene conto anche dei costi che poi lo Stato dovrà affrontare per sanare determinate situazioni. Si è parlato anche di un indice alternativo, però su un albaio ancora degli economisti, dei politici, anche lo stesso Sarkozy aveva fatto un po' di tempo fa una relazione insieme allo stesso Stiglitz per discutere circa la possibilità di utilizzare un indice alternativo al prodotto interno. Un altro capitolo di cui ho voluto parlare sono le agenzie di rating. Le agenzie di rating io le definisco delle vere e proprie prostitute finanziarie. Perché? Perché queste agiscono in pieno conflitto di interessi. Cioè loro per rispondere il rating, che cosa di rating? Sarebbe un giudizio che viene dato su azioni, su obbligazioni o sulla capacità addirittura di uno Stato di ripagare il suo debito. Ora, le principali agenzie di rating sono Standard & Poor's, Moody's e Fitch. In sostanza loro si fanno pagare per il giudizio che loro emettono. Quindi ovviamente se una società paga in maniera considerevole Standard & Poor's, ma ovviamente a Standard & Poor's gli regala una prima perché c'è appunto questo conflitto di interessi enorme. Il problema è che queste agenzie di rating causano numerosi danni per quanto riguarda gli stati. Perché che succede? Se queste agenzie di rating danno un giudizio negativo sulla capacità di un paese di rimborsare il suo debito, va a danneggiare la sua economia perché quel paese per rendere appetibili i suoi titoli di Stato sul mercato sarà costretto ad offrire un tasso di interesse più elevato. Quindi se prima vendeva titoli di Stato al 4%, adesso la Grecia che è stata danneggiata enormemente anche dall'agenzia di rating deve vendere titoli di Stato al 21%, quindi pagare degli interessi triplicati, quadruplicati sul proprio debito. Per esempio per quanto riguarda l'Italia, giusto per fare una piccola parentesi, noi paghiamo circa 80-90 miliardi di interessi sul debito, quindi delle cifre assurde, sempre in virtù di questo meccanismo malato su cui si basa la politica monetaria. Poi per quanto riguarda l'esercizio di rating sono in mano a privati, sono nelle mani di hedge fund, di gruppi di investimento, di società, di SPA, società delle azioni, quindi non hanno nulla di pubblico, eppure nonostante ciò riescono a influenzare negativamente la politica monetaria di molti paesi. Un altro capitolo invece l'ho fatto sull'iscaldamento globale. Come voi sapete il il fautore di questa teoria sul riscaldamento globale è outdoor, vicepresidente degli Stati Uniti sotto Clinton, tra l'altro membro della Trilateral e dei Bindemerk, tutte istituzioni sovranazionali che non sono state elettate da nessun cittadino americano o europeo, e lui ha portato avanti questo discorso sul riscaldamento, cioè basato su che cosa? Lui dice che in realtà è l'uomo che, producendo attraverso le sue industrie, fa aumentare la CO2, quindi genera inquinamento nel pianeta. In realtà tutto questo non è vero, perché ci sono degli scienziati che hanno dimostrato che l'aumento, l'inalzamento, l'abbassamento di CO2 sul pianeta terrestre, è una cosa proprio naturale. Quindi l'uomo può influenzare nemmeno dell'1% questa sorta di discaldamento globale, quindi è un fenomeno naturale che non dipende dall'uomo. In realtà Al Gore ha utilizzato il pretesto del subiscaldamento globale per riprendere le teorie di un economista che era Malthus. Questo economista era fissato con il controllo demografico. Cioè lui diceva che in realtà ne siamo troppi su questo pianeta, quindi l'unico modo per poter vivere meglio è quello di controllare il numero di abitanti. Questo discorso, riferito al controllo delle nascite, è un discorso di cui mi parla molto spesso il club di Roma, che è un'altra istituzione sovranazionale come Wittenberg o come Trilateral che si basa sull'eugenetica. Quindi in pratica tutta questa teoria è basata sui vaccini, sul fatto che la gente si deve ammalare, che poi tra l'altro è un business, il fatto di rendere sterili le persone per non procreare, è tutto basato su queste teorie riprese da Malthus. In realtà queste sono totalmente infondate perché non abbiamo un problema di risorse. Noi viviamo in un contesto economico in cui semmai abbiamo un problema di allocazione di risorse, perché c'è alcune parti del pianeta che godono di abbondanza produttiva e altre parti che godono di scarsità, in cui non si riesce a produrre il necessario per soddisfare la collettività. Quindi è un problema di allocazione di risorse, non di mancanza di risorse. Quindi ovviamente si decentra completamente nell'oggetto del problema. Un altro capitolo, non voglio entrare ora nei dettagli di tutti i capitoli, vi do giusto un accenno, si intitola I soldi in cassa non ci sono. Questo è basato sulla riserva frazionaria. La riserva frazionaria sarebbe un modo, viene considerato anche il cosiddetto signoraggio secondario, è un modo con cui le banche creano denaro da nulla, attraverso il giochetto deposito-pressi di deposito. Per farvi un esempio banale, se io vado in banca domani mattina e deposito 100 euro, la banca ha l'obbligo di tenere a riserva solo il 2% di quella cifra, ossia 2 euro. Dai restanti 98 euro mi puoi liberamente prestare a un correntista che dopo il mio deposito va in banca e chiedo il prestito. Attraverso questo giochetto deposito-pressiti si è stato calcolato che le banche creano denaro da nulla. Quindi con un deposito di 100 euro le banche arrivano a creare fino a 5.000 euro di ricchezza, di denaro, quindi 4.900 euro non vengono creati da nulla. Ora immaginate questo con un deposito di 100 euro, immaginate che cosa succede con un deposito di 10.000 euro, di 100.000 euro e così via. Questo è anche uno dei perché in realtà troviamo nella collettività che a livello sociale la massa monetaria spesso aumenta a dismisure, non ci chiediamo come mai avendo questo. Perché appunto creando ricchezza da nulla c'è troppa massa monetaria in giro e automaticamente si genera perdita del potere di acquisto. Quindi la nostra moneta, il nostro salario vale di meno rispetto a un mese fa o a sei mesi fa. Ovviamente ne paghiamo noi le conseguenze perché in una situazione di inflazione abbiamo un aumento generale dei prezzi e una perdita del potere di acquisto della nostra moneta. Quindi veniamo profondamente danneggiati. Un altro capitolo che ho voluto fare invece sui cosiddetti derivati che ho definito proprio delle armi di distruzione di massa. I derivati che cosa sono? Sono delle scommesse, delle scommesse finanziarie. Ci sono questi istituti finanziari che scommettono su qualsiasi cosa. Cioè se quella società Alfa avrà tra un anno un fatturato di un milione di euro, se la Grecia riuscirà o no a pagare il suo debito. Quindi sono delle scommesse vere e proprie e le vendono al signor Rossi tramite istituti bancari o finanziari varie. Il discorso qual è? Che generano dei danni enormi all'economia. Perché? Perché molto spesso questi istituti che emettono questi CTS, i credit default sguatta, che sarebbero i derivati più famosi, non sono in grado di ripagare le loro scommesse. Quindi per esempio adesso stanno vendendo milioni e milioni di CTS sul fallimento della Grecia. Quindi io mi compro questo CTS scommettono che la Grecia possa fallire. Nel momento in cui effettivamente tra un anno magari la Grecia fallirà, questi istituti di credito mi devono ripagare questo CTS. Quasi sempre questi istituti non sono in grado di ripagare questi derivati e quindi ecco che interviene lo Stato con soldi pubblici. Quindi è una beffa della beffa in sostanza. Quindi sono degli strumenti finanziari che non sono regolati sul mercato, né sul mercato primario né su quello secondario e sono delle vere e proprie armi di distruzione di massa per i danni poiché combinano all'economia. Poi vabbè ho fatto un capitolo sul funzionamento della corsa. Cioè in realtà la corsa, molti pensano, chissà come possa funzionare, in realtà la corsa si passa sui cosiddetti rumors. Cosa sono? Sono delle cosiddette indiscrezioni che finiscono agli agenti di corsa. Quindi se per esempio viene fuori che verrà attaccato un paese, Iran, che ci dà il petrolio, automaticamente loro vanno a investire sul petrolio e giocano attraverso delle oscillazioni dei prezzi. Ovviamente ne paghiamo anche noi le conseguenze perché poi avremo un prodotto o un servizio ad un prezzo maggiorato. C'è da dire che c'è un netto distacco tra l'economia reale e la finanza. Per dirvi, un oggetto che nell'economia reale viene scambiato una sola volta, nella finanza viene scambiato 20 volte. Quindi c'è un rapporto di 1 a 20 tra economia reale e finanza e questo ovviamente causa dei danni enormi alla collettività. L'ultima parte del libro invece ho voluto rappresentare un po' la truffa del sistema economico. La truffa rappresentata come ormai ben sapete dal signoraggio bancario che significa aver ceduto il potere di emettere moneta degli organismi privati come la Banca d'Italia o come la BC, la Banca Centrale Europea. La stessa cosa non avviene solo a livello europeo ma avviene anche a livello americano perché la stessa Federal Reserve, la Banca Centrale Americana è anche essa privata. Questa truffa è una delle truffe più gravi a mio avviso per il popolo sovrano perché se tu privi il popolo del potere di emettere moneta, automaticamente l'hai privato di tutto. C'era Rothschild che diceva mi infischierò di chi fa le leggi perché datevi il potere di emettere moneta. Per il resto poi mi infischierò di chi ne fa le leggi. Come per dire se in politica salirà un partito di destra o di sinistra, almeno me ne frega proprio perché quello che conta per me è il potere di emettere moneta. Quindi il problema del signoraggio è uno dei problemi fondamentali di cui se ne dovrebbe discutere in continuazione invece anche, tranne sulla rete che circola abbastanza però nei massi media, tv, giornali è anche molto boicottato e censurato. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni a mio avviso sono il riprendere il concetto che il debito è detestabile, che è un concetto di cui ne parlò Alexander Sachs che era un ex tipo ministro russo e lui disse proprio questo, cioè se la collettività contrae un debito ma quel debito non ha portato benefici alla collettività sessa, allora deve essere ritenuto un debito odioso e quindi non pagato. Noi attualmente abbiamo qualcosa come 1900 miliardi di debito pubblico. Se noi volessimo riprendere questo concetto del debito detestabile, dovremmo analizzare in realtà se questo debito ci ha portato dei benefici oppure no. Se non ci ha portato dei benefici allora questo debito va rinnegato, ossia non va pagato. Però questo non è sufficiente. ovviamente unito al discorso del debito detestabile, dobbiamo collegare la sovranità monetaria, cioè dobbiamo restituire al popolo, allo Stato il potere di emettere moneta. Come fare tutto questo? Istituendo una nuova valuta, quindi distancandoci dall'euro il prima possibile perché l'Unione Europea ha un fallimento economico vero e proprio, anzi i primi paesi che usciranno dall'euro se vanno quindi che ne giocheranno in più, e introdurre una nuova valuta e quando dico una nuova valuta non parlo di un ritorno alla lira, attenzione, perché se ritorniamo alla lira e la lira viene comunque prodotta dalle banche, non cambia nulla in sostanza, siamo sempre soggiogati al diktat dell'oligarchia bancaria. Se invece introduciamo una nuova valuta con un cambio flessibile, non fisso, quindi flessibile intendo che si adatta man mano alla domanda dell'offerta di mercato e viene introdotto con un approccio morbido. Per approccio morbido intendo che non dobbiamo obbligare i cittadini a cambiare automaticamente l'euro nella nuova valuta, ma approccio morbido significa che i dipendenti pubblici vengono pagati con la nuova valuta e nello stesso tempo lo Stato deve richiedere il pagamento delle tasse con la nuova valuta. Automaticamente anche gli stessi privati andranno a fare ricorso alla nuova valuta nazionale. Chiarito questo discorso di debito pubblico, debito detestabile, sovranità monetaria, ovviamente possiamo introdurre tutta una serie di strumenti fiscali che possono agevolare la nostra economia, come anche il cosiddetto reddito di cittadinanza, quindi lo Stato dovrebbe provvedere a garantire i diritti basilari dell'essere umano, come il bere, mangiare e avere un tetto sotto cui dormire. In un contesto socio-economico come quello attuale tutto questo non è possibile. È possibile solo se l'Italia e lo Stato la possibilità di emettere monita e quindi di garantire queste forme che in Svizzera definiscono come assegno universale. Anche lì si è discusso per farlo introdurre. Poi alla fine la Confederazione Svizzera ha bocciato dicendo che un reddito di cittadinanza del genere avrebbe generato apatia nella collettività, quindi bisogna fare un po' di attenzione su questa cosa nel senso che ovviamente non va dato un reddito di cittadinanza in grado, in maniera così abbondante. Ovviamente deve garantire i diritti basilari che sono appunto il soddisfare il proprio fabbisogno alimentare e avere un reddito su tutti gli ordini. Oppure possiamo introdurre altri argomenti come per esempio la democrazia diretta. Noi attualmente viviamo in un scenario politico basato sulla politica rappresentativa. Cioè noi votiamo Tizio Caio che poi ci deve rappresentare in Parlamento. Posso fare una piccola parentesi aprendo per esempio un richiamo a Perkins. Perkins è definito il cosiddetto sicario dell'economia, è un reo confesso, era uno che andava dai capi di Stato dell'America Latina e li andava a ricattare. Con una mano aveva la varigetta dei soldi e con una mano aveva un proiettile e gli faceva scegliere se essere ricattato con i soldi oppure subire ben altre conseguenze. La maggior parte dei capi di Stato accettavano di essere ricattati e altri invece come lo stesso per esempio Sankara non ha accettato. Sankara è il presidente del Burkina Faso, lui aveva rinnegato il debito del suo paese, ma fa l'apposso i servizi segreti francesi e americani l'hanno fatto fuori. Un altro presidente che aveva cercato in un certo modo di mettere i passoni tra le ruote e l'oligarchia bancaria fu Kennedy. Kennedy istituì per esempio l'ordine esecutivo 11.110 e con questo ordine dava il potere agli Stati Uniti d'America di emettere 4,3 miliardi di dollari emissi dallo Stato. Quindi non erano stampati dalla Federal Reserve che è una banca centrale privata americana, ma erano emessi dallo Stato. Quindi questi 4,3 miliardi non generavano debito. Manca fa l'apposta, 3 mesi dopo, 4 mesi dopo a Dallas l'hanno assassinato. Da allora nessun presidente ha più ripreso l'ordine esecutivo 11.110 che attualmente è in vigore nella legislazione americana, ma né Obama né nessun altro che abbia sognato di riprendere questo ordine esecutivo, perché sanno ovviamente la fine che potrebbero fare. quindi gli strumenti a mio avviso ci sono, ovviamente non è facile informare tutte le persone su queste cose, ma se capiamo qual è il problema sappiamo anche che esistono degli strumenti validi alternativi per riformare il sistema economico. Ovviamente bisogna riprendere anche il discorso della democrazia diretta, quindi non bastano gli strumenti che abbiamo, noi attualmente abbiamo le petizioni che sono in cui uno può fare una proposta di legge con 50.000 firme, poi alla fine finiscono in un cassetto del Parlamento e nessuno ne discute mai. Abbiamo i referendum abrogativi, quindi siamo limitati semplicemente ad abrogare una legge che purtroppo non ci piace o va mai, anche per farlo questo abbiamo bisogno di 500.000 firme e la cosa più indegna è che questi referendum sono dotati di un quorum, ciò significa che se non si raggiunge quel quorum comunque il referendum non passa. Quindi in democrazia diretta va abolito anche il quorum, cioè nel senso che chi va a votare si fa il conto delle persone che votano, che si interessano della res pubblica e quindi automaticamente quel referendum, quella proposta deve passare. Altra cosa, dovremmo istituire i referendum propositivi che qua non abbiamo, cioè noi non possiamo proporre una legge e poi farla votare un po' per l'attraverso il referendum, ci possiamo solo limitare ad abrogare una legge che purtroppo non va bene sempre che si raggiunga il quorum previsto dalla legge. Quindi ci sono a mio avviso dei passaggi da dover fare. Il primo passaggio è l'informazione, l'informazione che deve cercare di vincere l'apatia e l'indifferenza delle persone, quindi farla avvicinare proprio alla res pubblica. Fatto questo, capito il problema, cioè signoraggio bancario, eccetera, possiamo poi proporre tutte le soluzioni che ci sono, ossia il concetto del debito rivestabile, la sovranità monetaria e introdurre strumenti di democrazia diretta che possono rendere molto più equilibrata e trasparente la politica sociale e economica che poi regola la società. Io ho finito, se ci sono domande dal pubblico... Sì, domande, interventi... Sì, voglio fare una domanda? Facciamo qualche domanda? Allora, per quanto riguarda l'espaldamento globale, chiaramente io sono d'accordo. Volevo sapere soltanto se tu saluto di riconoscenza che la manipolazione climatica è anche una tecnologia in alto. Più vicino? Sì, quindi... Ardo. Ardo, quindi ha un'influenza molto forte, insomma, quindi è chiaro che la manipolazione, cioè il surriscaldamento globale è una bufala proprio perché, oltre che dal punto di vista scientifico è retto dallo discorso che l'uomo può influenzare con tutti gli smog, con tutte le industrializzazioni di una piccola percentuale e poi chiaramente che quello che succede è dovuto anche, diciamo, a una produzione tecnologica studiata dal vecchio Tesla, insomma, che poi è stato veramente evoluto in questa tecnologia. Il ragazzo di Andavani ha fatto un'influenza. Sì, se ha una conoscenza di Apple ovviamente là è tutto celato da un segreto, non si può entrare dentro, assolutamente dire che il caspita fanno tutte le servite lì dentro. Però per quanto riguarda il discorso globale, Al Gore è stato ampiamente sbeffeggiato, tant'è vero che un hacker addirittura trovò migliaia e migliaia di email che gli scienziati pagati dallo stesso Al Gore cercavano un po' di capire che teoria, diciamo, aprontare per far credere che non era tutta una bufala ma era una cosa credibile. Quindi era dimostrato che era proprio una bufala creata ad hoc, questo del discorso globale. però ci sono appunto altri problemi come le scienziiche, come il controllo della meteorologia, ARPA, eccetera, eccetera che ovviamente bisogna stare attenti a queste cose, approfondirle e cercare comunque di rendere le note in più. Il problema è che sono velate dalla segretezza, dalla censura mediatica soprattutto e non si riescono nemmeno a approfondire più di tanto. Se ARPA ti chiude i cancelli e non puoi fare l'intervista responsabile divene tutto più difficile. Anche perché io a Bari dove lavoro, che lavoro in aeronautica, c'è appunto un centro sperimentale per la stimolazione della pioggia perché ci sono gli israeliani, quindi sono fatti di altro. Non vorrà un pochino sopportarmi, Salvatore, se dico che due cose importanti. La prima, l'approccio tecnico-monetarista e l'approccio io chiamo giuridico ideale monetarista hanno dal punto di vista mio, che voglio ottenere ovviamente risultati finali uguali, due giganteschi difendi. Mi spiego. La moneta non è in sé teorico dell'idea che lo strumento di scambio collettivo paritario che rappresenta il riconoscimento individuale e generale, l'un con l'altro, dell'uso della moneta stessa come strumento di scambio. Cioè questa teoria, la teoria ovitiana che è fondamentale dal punto di vista dei valori e della finalità generale è teoria che indica, come dire, un solde, un dovere essere, ma non un insetto. Cioè questo approccio idealistico-teorico è importante dal punto di vista della concebolezza in generale che la moneta è anche uno strumento utilizzabile in un certo modo. L'approccio, diciamo, più tecnico-economico in realtà ha un gravissimo ancora maggior punto che è quello di sezionare il punto di osservazione ritenendo che un'alternativa nel modo di essere istituzionale o strutturale della moneta sia la risposta al problema. In realtà, banalmente, non è la risposta al problema, è il problema storico risolto dal punto di vista dei valori. perché non è dire che la moneta deve essere messa da uno Stato come strumento collettivo che cerca individuale il percorso storico, perché manca tutto un pezzo di analisi, che io chiamo analisi strutturale, e che attiene al sistema. In realtà, noi siamo a una grande ascolta educativa. Il sistema non si è impantanato solo sui derivati, sulla superficie monetaria, sul governo sempre più accentuato della moneta gestito dai grandi poteri finanziari privati. Si è impantanato perché le regole fondamentali del modello, quelle capitalistiche, il circuito del denaro-merce-denaro e la forma in cui anche la moneta diventa uno strumento ulteriore di realizzazione del profitto, è un percorso storicamente finissimo. Si può pubblicare la storia, si può ricreare artificialmente un percorso di accumulazione del profitto, ma ogni volta contempli sempre più di tutti e quindi siamo di nuovo alla grande distruzione necessaria o alla grande distruzione dei pochi beni individuali generati in questo circuito apparentemente. Ma resta il nostro. Ed allora, se questo è il tema, l'approccio del signoraggio, che non dà conto, dal punto di vista strategico, di un modello economico-sociale completamente diverso e che si illude di poter creare un'alternativa ricondando un circuito economico positivo a partire dal possesso statuale e collettivo della moneta, è un approccio monico, così come vi è più monico l'approccio opposto, dove le vecchie ricette tarso-venesiane vengono di potenziate tecnologie e teorie che in realtà danno conto della continuità del sistema. Se la mia analisi non è rara e non è eccessivamente parziale, siamo di fronte alla necessità di ricostruire un'idea di economia e un progetto reale di economia e sociale che sia completamente nuova. Tatticamente di pensare non tanto alla definizione teorica della moneta quanto a quali mercati, quali soggetti internazionali, quale ritenimento di risorse, quali sistemi di produzione di beni e quindi, capisco perché, e scusate la provocazione violenta che è molto affettuosa, un pezzo del massonerio gestiscono anche un pezzo del ragionamento intorno alla moneta che ha il signoraggio perché sanno bene che questo approccio non va affatto a contatto e incorrono anche questo risultato perché i poteri forti di cui parliamo sono talmente tanto ampi che non hanno bisogno dei monti solo e non hanno bisogno anche solo dei tre monti, ma possono anche incorporare una risposta reazionaria o nazionale. Delle cose che vi ha detto lui, che io ovviamente condivido sul piano dell'analisi tecnica, la più importante è questa, dobbiamo ripensare persino alla forma stato e alla forma nazione perché se il ritorno al passato è strumento di condizionamento che deriva probabilmente dagli stessi poteri. Di fronte all'alleanza del piccolo portafoglio, il parvenuto della nuova economia, la destra e neoliberista e al grande potere, come mai massonico vincente, degli apparati legati ai Roche, alla svolta post-atlantista del mondo di sinistra, l'unica possibile strategia è quella più idealista, più utopica apparentemente, ma che è dal punto del corso della storia. Sì, una moneta nuova, ma anche un'economia nuova. Sì, non stiamoci a raccontare che cos'è il modello ideale della moneta nuova, perché se ne avremmo realizzato la moneta nuova, avremmo preso il potere. Se avremmo preso il potere, non avremmo creato una tradizione tra moneta e produzione, ma avremmo creato un modello economico, sociale e produttivo diverso. Perciò, questa cosa che sembra un'esercitazione teorica, è in realtà l'unica possibilità che abbiamo. Io condivido quello che abbiamo fatto introdurre una nuova valuta con un nuovo sistema economico, ovviamente è un inizio, ma anche un continuo di una rievoluzione di cui appunto parlava lo stesso Paolo prima. Ovviamente il capitalismo è fallito, ormai non riesce a dare nessun beneficio a nessuno, ne traggono ormai solo quelle poche corporation, quelle multinazionali che stanno a capo, è necessaria una riforma industriale completamente nuova, quindi non più basata sui modelli, e cercare un po', come ha detto anche lo stesso Paolo, di riformare proprio la concezione a livello sociale e quindi poi anche economico. Se ci sono altre domande, altrimenti chiamo l'Avvocato Luigi Madra vicino a me, così continuerà lui con la relazione. Grazie.